Grazie, grazie cara Angela, caro Sigmar, per questa conferenza economica italo-tedesca e ringrazio molto anche le due organizzazioni gemelle degli imprenditori, saluto il presidente Dieter Kempf e il presidente Vincenzo Bocce. La nostra è un'occasione speciale perché per la prima volta in questa modalità avviamo un dialogo tra i nostri due governi e le nostre due business community insieme. Non posso non aprire questi lavori anche in questa occasione rivolgendo un pensiero a quello che è accaduto di nuovo stamattina nelle regioni del centro Italia colpite dal terremoto e colpite di nuovo da tre scosse di terremoto molto forti. Sentite anche a Roma, ho avuto un sms di mia moglie che mi avvisava della situazione. Siamo vicini, ci stiamo lavorando, seguiamo la situazione passo dopo passo. Grazie di questa testimonianza di vicinanza, di solidarietà a quelle popolazioni. Tutto quello che guardiamo attorno a noi nel mondo ci dice che siamo di fronte a un mondo nuovo da una specie di terra incognita. Siamo entrati in quella che è stata definita dall'inventore del reparto di ingegneria di Google l'era delle accelerazioni, in cui la velocità dei cambiamenti è e sarà ancora enormemente superiore rispetto al passato, divenendo sempre più un processo esponenziale. Ma proprio di fronte a questi cambiamenti è importante trovare il tempo per riflettere, discutere come avete fatto oggi, come stiamo facendo oggi. Un importante giornalista del New York Times, Thomas Friedman, ha intitolato il suo ultimo libro dedicato proprio alle trasformazioni del mondo di oggi. Thank you for being late. Grazie per essere in ritardo. Proprio per spiegare quanto sia importante in questo tempo di accelerazioni che ci concediamo il lusso di fermarci per trovare un senso nell'era segnata dai cambiamenti, per ragionare sul senso di marcia. Ci accorgiamo così che non sono solo i cambiamenti tecnologici e le trasformazioni dell'industria 4.0 a farci entrare in territori nuovi e in un panorama, quello che stiamo vivendo per molti versi, inedito. In questo senso si può citare un dato emblematico. Nel 2016 la maggiore fonte di instabilità in ambito economico è stata più che l'economia la tensione geopolitica in diverse aree di crisi e anche alcuni processi che sono andati avanti nel nostro continente, come la decisione per certi versi in attesa di Brexit. Quindi l'incertezza deriva certamente da fattori economici, ma anche da fattori che hanno direttamente a che fare con la politica, la geopolitica, la relazione tra gli Stati, tra i popoli, tra i continenti. La stessa elezione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a cui auguriamo buon lavoro per l'inaugurazione che avverrà dopo domani, avrà conseguenze politiche e economiche che sarà importante esaminare insieme. Nel frattempo assistiamo soprattutto qui in Europa, ma in tutto l'Occidente in generale, a situazioni di crisi generate spesso dalla mancanza di fiducia. Una società di consulenza ha mostrato che sono oggi più di ieri i paesi in cui la fiducia nei confronti delle istituzioni, del mondo del business e anche degli stessi media è inferiore al 50% della popolazione, descrivendo addirittura un quadro di implosione della fiducia. Rispondere a questa sfida sarà il compito delle classi dirigenti delle nostre democrazie nei prossimi anni. Come è potuto sfociare in tante criticità un cammino virtuoso che ha visto ridursi le guerre e le violenze, aumentare l'aspettativa di vita, espandersi le democrazie, declinare la povertà. Una delle ragioni è stata la capacità di questa straordinaria accelerazione tecnologica di discriminare tra vincenti e perdenti. La diffusione dei perdenti ha messo in crisi in molti paesi la fiducia nel progresso e nella globalizzazione. Signore e signori, quello di oggi è un appuntamento innovativo. In passato c'era stata un po' una collaborazione su due binari tra noi, tra i nostri due governi e tra le nostre due business community. Oggi questi percorsi si incrociano in una forma ancora più inclusiva e efficace di dialogo a quattro. È un dialogo che sarà importante continuare perché un passo avanti nelle nostre relazioni si inserisce perfettamente nella loro storia. È anche questo un pezzo della risposta che dobbiamo offrire alla crisi di fiducia, alle incertezze e alle contraddizioni del nostro tempo. Davanti alle nuove sfide si lavora insieme. Susanna. Oggi parliamo di tecnologie di manifattura, ma il nostro è un confronto che si iscrive in un orizzonte più largo. Troppo spesso, negli ultimi vent'anni, si è vissuti nell'illusione che la tecnologia potesse essere neutra. Un'illusione perché le conseguenze politiche e sociali sono inevitabili, vanno comprese e discusse perché la nostra democrazia si rafforzi e non si indebolisca. Il motivo è semplice. Producendo spesso risultati contraddittori, i cambiamenti devono essere accompagnati, orientati. Già negli anni 30 del secolo scorso, John Maynard Keynes lanciava un allarme sul rischio di disoccupazione dilagante a causa dell'innovazione. Si sbagliava. Quella previsione si rivelò nei decenni successivi sostanzialmente infondata. Anche oggi siamo convinti che il progresso tecnologico, in ultima analisi può portare un saldo ampiamente positivo, ma rispetto al passato i fenomeni di riorganizzazione del lavoro saranno profondi e dobbiamo gestirli e orientarli. Italia e Germania collaborano fianco a fianco nel quadro di alleanze definite dai nostri valori comuni. Allo stesso tempo i dati sull'interscambio ci mostrano quanto i destini dei nostri due Paesi siano intrecciati. La Germania è il primo partner commerciale dell'Italia, sia come mercato di sbocco del nostro export, sia come Paese di provenienza dell'import italiano. Negli ultimi anni le performance continuano ad essere buone, con un aumento delle esportazioni tedesche in Italia del 7,4% e di quelle italiane in Germania dell'1,1%. Dobbiamo recuperare. È un volume complessivo che ha raggiunto quasi 108 miliardi di euro. Sappiamo bene che Germania e Italia sono rispettivamente il primo e il secondo Paese manifatturiero d'Europa e sappiamo inoltre come la comune vocazione manifatturiera sia alla base dei successi del nostro export nel mondo. Tutto questo, i parallelismi e la stessa complementarietà che la forza dell'interscambio testimonia, ci dice come i nostri due Paesi abbiano possibilità di essere insieme protagonisti di questa nuova fase della rivoluzione digitale. Dal punto di vista economico, Italia e Germania hanno mantenuto intatta una grande vocazione industriale. Dunque nessuno quanto noi è attrezzato a cogliere le opportunità del presente e del futuro, che si basano sul connubio tra digitale e manifatturiero e sulla capacità di questa nuova manifattura di rispondere alla sfida dello sviluppo sostenibile ed ecocompatibile. Ognuno dei nostri rispettivi modelli economici trae forza da caratteristiche speciali. Per l'Italia un esempio tipico è il modello dei distretti, che rappresentano un terzo del sistema manifatturiero italiano. Un modello che vede insieme grandi e piccole e medie imprese, istituzioni locali e know-how. Una manifattura, la nostra, con i piedi ben radicati per terra. E anche per la Germania so bene quanto sia importante l'intreccio tra la dimensione del business e quella sociale. L'interscambio tra questi due modelli non è una novità. Ha costituito fin dal dopoguerra la base su cui le nostre industrie tessili e meccaniche, soprattutto, diventate poi alta moda e alta tecnologia, si iniziarono a sviluppare. Questo stesso tessuto comune è oggi cruciale per la crescita della manifattura verso le opportunità della tecnologia digitale. Il motore della crescita e dell'innovazione è nell'impresa privata, lo sappiamo bene. Eppure non basta costruire un contesto favorevole, sia pur necessario. Le politiche pubbliche devono elevarsi a un grado maggiore di ambizione, sia quelle nazionali che quelle europee, proprio per sostenere le prerogative di crescita e libertà rappresentate dalle imprese private. Italia e Germania, su moltissime questioni, sono davvero in sintonia. Su alcune altre forse meno. Abbiamo il dovere, io credo, di discuterne per trovare soluzioni condivise. I veri amici, quali sono Italia e Germania, hanno il principale dovere di essere sinceri. Noi crediamo che la fase dell'austerità, come fine a se stessa, sia traumatata e auspichiamo un confronto serio e produttivo sul tema. Un confronto aperto all'altezza dei tempi. Talvolta la sproporzione tra le sfide che ci circondano e la discussione su virgole e cavilli nell'Unione Europea è troppo stridente. Sappiamo quali siano stati i risultati positivi del piano Juncker e valutiamo positivamente la discussione sul suo prolungamento. Crediamo anche che questo strumento, per quanto prezioso, non sia sufficiente per dare risposte economiche e sociali. L'Europa del lavoro, l'Europa che affronta le diseguaglianze sociali, di questo abbiamo bisogno. Penso all'idea lanciata dal nostro Ministro dell'Economia di un sussidio europeo di disoccupazione per ridurre la frammentazione del mercato del lavoro. Allo stesso tempo maggiori risorse comuni devono andare agli investimenti sulla nostra infrastruttura più strategica, la ricerca e l'Università. Ma naturalmente non si tratta solo di spendere, si tratta di costruire assieme una visione per il futuro del nostro continente. L'Italia, di questo potete essere certi, non tornerà mai a essere un Paese fiscalmente irresponsabile. Quel tempo ormai è finito, anche se ne paghiamo tuttora alcune delle conseguenze. Le risposte da dare sono urgenti. Ne avete parlato oggi. Consentitemi di citare il piano Industria 4.0, di cui oggi ha parlato il Ministro Calenda. Questo piano è un esempio di assunzione di responsabilità pubblica nel rispetto delle dinamiche del mercato e delle scelte dei privati. Il piano prevede forti sostegni fiscali agli investimenti, ma senza pretese dirigiste. Gli incentivi sono automatici. Allo stesso tempo il piano compie anche una scelta chiara, di sostegno nei confronti della modernizzazione digitale e dei beni strumentali che porteranno l'industria a un salto di qualità tecnologica. Signore e signori, cara Angela, caro Sigmar, caro Carlo, c'è bisogno di una rinnovata fiducia nella democrazia per contrastare l'erosione dei patrimoni di solidarietà e di valori che ci uniscono. Noi crediamo nell'economia e nella società aperte. Sono portatrici di opportunità, di crescita, di libertà e dunque anche di giustizia. Ma la società aperta funziona solo se i tassi di fiducia sono alti, se nessuno si approfitta della libertà che gli viene concessa, se nessuno pensa che la partita sia stata truccata, se lo Stato garantisce la sicurezza di tutti. Non ci rassegniamo alle tendenze protezionistiche che sono una conseguenza dello scontento e della sfiducia. A queste tendenze si risponde difendendo insieme l'apertura dell'economia e l'apertura della società, ricordando che esse sono entrambe condizioni indispensabili della crescita e del progresso. Per questo il passaggio cruciale che stiamo vivendo nell'industria è fondamentale. È caratterizzato dall'abbandono definitivo anche nella manifattura dell'analogico per passare al digitale, delle informazioni frammentate per passare ai big data. È un cambio di paradigma. Questo cambiamento avrà successo nella misura in cui le istituzioni pubbliche e le istituzioni di rappresentanza saranno in grado di trasmettere il senso della sua utilità, della sua positività, del fatto che soprattutto per noi, Paesi occidentali avanzati, la crescita è una condizione per rafforzare la nostra identità, i nostri valori, le nostre istituzioni, la nostra convivenza. Tale considerazione, i cambiamenti avvengano perché le persone li desiderano, li considerano utili, è ancora più valida oggi nei nostri Paesi perché il baricentro economico del mondo non è più esclusivamente in Occidente. La Germania e l'Italia hanno quest'anno un'opportunità straordinaria per impostare un'agenda condivisa avendo responsabilità incrociate nelle presidenze del G7 e del G20. Una riflessione comune alle presidenze dei due gruppi di Paesi, come quella che abbiamo compiuto oggi, è un segnale decisivo di unione tra i Paesi fondatori dell'Europa. Tengo oggi qui a sottolinearlo quando mancano poco più di due mesi, al 25 marzo, giorno in cui celebreremo il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma. Un maestro da poco scomparso, il sociologo polacco Zygmunt Bauman, ci ha ricordato per anni come fosse urgente evitare il rischio di costruire una società in cui l'unica certezza è l'incertezza. Questa esigenza è più che mai attuale. A questa esigenza possiamo rispondere continuando alla nostra collaborazione, alla luce delle molte soluzioni individuate oggi che valgono come una mappe per iniziare a orientarci in questo mondo nuovo. Grazie. La ringraziamo, signor Presidente. Ed ora, signore e signori, la cancelliera federale della Repubblica federale tedesca, la dottoressa Angela Merkel. Grazie. Grazie Presidente del Consiglio, caro Paolo, caro Ministro, cari Ministri, signore e signori. Alla fine di marzo, appena accennato Paolo Gentiloni, ci sarà la commemorazione della firma dei Trattati di Roma. A suo tempo nel 1957 erano ancora pochi quelli che facevano parte di questa cerchia, Germania, Italia, Francia e i paesi del Benelux. A suo tempo, ricordo che vi ricordate. E a Roma, naturalmente, teatro di questo momento storico, questo sottolinea quanto sia importante l'Italia, sia sempre stata importante l'Italia per questa evoluzione. Aden aveva detto che l'Europa non avrebbe potuto trovare una cornice più idonea perché si tratta proprio di Roma e la sua città più importante in questo contesto. Noi, naturalmente, sappiamo, i nostri due paesi sanno quanto traiamo profitto, dai vantaggi dell'Unione Europea, libero aumento di circolazione delle persone, libri di scambio, eccetera, tutte quante le nostre così approfondite relazioni, tutti gli incontri. L'Europa ci assicura la stabilità e la pace che tante altre regioni del mondo vorrebbero avere. L'Europa è il simbolo della democrazia, del sistema giuridico, la libertà, la società libera, la società aperta. Abbiamo dei valori condivisi molto importanti, fondamentali. E in questi giorni, forse è il caso di ripetere queste cose che ci sembrano quasi normali, consuete nel nostro mondo, ma a noi sono normali, per noi sono normali queste cose, ma bisognerà continuare a tenerli alti questi valori. E forse ogni singola generazione deve, chissà, ritornare a capire quali sono i valori importanti e dai colloqui con Paolo Gentiloni di oggi posso dire che sicuramente noi abbiamo una base comune molto stabile. Ecco perché sono sicura senza vivere i vantaggi di un'Unione Europea, forse è meglio neanche immaginare che cosa sarebbe adesso il mondo dell'Europa, però è bene guardare al futuro, perché i cittadini d'Europa devono poter capire che è importante combattere insieme, raccogliere insieme le sfide che dobbiamo affrontare. E questo in molti casi significa anche naturalmente difendere i posti di lavoro, posti di lavoro anche di buona qualità. Il referendum in Gran Bretagna naturalmente è qualcosa che ci ha dato un po' il segnale d'allarme, o la sveglia quantomeno per tutti noi altri Stati membri. Ieri abbiamo parlato, abbiamo ascoltato alcuni dettagli da Teresa May su quelli che potrebbero essere il futuro delle trattative, ma è importante però capire che i prossimi anni non ci occuperemo soltanto di trattative per il Regno Unito che vuole lasciare l'Europa, ma è importante proprio parlare del nostro futuro, plasmare il nostro futuro, anche il nostro futuro delle nostre relazioni mutue. E quindi è importante che le trattative per l'uscita dall'Unione Europea e del Regno Unito non venga poi o non risulti in un qualcosa che ci divida noi altri Stati membri. Il discorso di Teresa May ieri ha dimostrato che la Gran Bretagna naturalmente sa bene di cosa sta parlando. E quindi è importante che sappiamo che sta nelle nostre mani riuscire a fare dell'Europa un'Europa forte, che può reagire alle crisi e dobbiamo naturalmente ammettere che in passato forse non sempre l'abbiamo fatto in maniera sufficiente in tutti i campi. Pertanto ritengo che nei prossimi anni sarà importante concentrarsi a livello europeo su quei punti che sono fondamentali, cioè non perdersi per strada. Noi a Bratislava naturalmente nel vertice dei capi di Stato e di Governo avevamo già delineato quelli che devono essere gli orientamenti fondamentali, garantire i confini comuni esterni, la politica di immigrazione comune. Nei nostri colloqui oggi con Paolo Gentiloni abbiamo parlato molto di queste cose proprio perché si tratta di un segnale che dobbiamo inviare anche a livello di Unione Europea a tutte le nostre cittadinanze perché non si tratta di un compito che devono assumersi soltanto uno, due, tre, quattro paesi ma tutti insieme devono affrontare questo compito. Tutti i paesi che vogliono naturalmente trarre profitto da uno spazio di Schengen dove si può muovere liberamente eccetera eccetera. Quello che occorre è una politica degli scambi davvero molto ambiziosa e una risposta efficace a quelle che sono le sfide dell'innovazione, dell'evoluzione, dello sviluppo e dobbiamo dimostrare al cospetto della globalizzazione, della trasformazione digitale che cosa vuol dire lavorare insieme, agire insieme in Europa. E quindi il mercato unico del digitale è molto importante come spunto l'Italia e la Germania sicuramente collaboreranno molto intensamente la conferenza di oggi lo dimostra, del resto ho appena parlato con Sigma Gabriel del ministro federale dell'economia e siamo d'accordo col dire che sicuramente anche insieme alla Francia sarà il caso di fare una conferenza in comune, in tre perché abbiamo delle conferenze tra la Germania e la Francia, Germania e Italia come oggi però sarebbe bello farne anche una a tre per dimostrare proprio quella che è la nostra forza economica. L'Italia e la Germania quest'anno sono anche unite nel gestire la globalizzazione perché c'è la presidenza del G7 dell'Italia, noi abbiamo il G20 come presidenza quest'anno e per il primo anno ci sarà un incontro dei ministri del digitale in seno a questa cerchia del G20 questa è una prima assoluta e la conferenza dell'economia di oggi è davvero un'ottima possibilità per poter sottolineare quali sono i potenziali della trasformazione digitale e come le imprese possono sfruttarle. Questo è quello che richiama proprio il titolo della conferenza di oggi. Come diceva il Presidente del Consiglio, anch'io voglio sottolineare che si tratta proprio di di sottolineare e portare avanti quelle che sono le opportunità della trasformazione digitale ci sono naturalmente oltre alle opportunità anche dei rischi ma è importante appunto portare avanti questo processo. Io ritengo che proprio i paesi con un'ampia base industriale, sia l'Italia che la Germania ce l'hanno questa base industriale, hanno dei punti di forza però naturalmente sono chiamati proprio in questo contesto proprio quando si tratta di introdurre la trasformazione digitale sul piano concreto noi chiamiamo questo appunto il piano industria 4.0 c'è stata un'agenda molto ampia che è stata già elaborata e sarà portata avanti anche in futuro ritengo che l'Italia e la Germania possono essere i precursori proprio e fare da pionieri per portare avanti e trarre con sé anche altri paesi europei e naturalmente è il caso di parlare dei vantaggi del più grande mercato unico del mondo e trarre profitto da questo grande mercato unico quindi questo grande mercato unico del digitale da creare bisogna incominciare a livello di infrastruttura naturalmente tutti gli stati di Unione Europea stanno cercando di potenziare l'infrastruttura sul piano nazionale ma anche qui naturalmente ci sono dei grossi programmi anche il piano Juncker e tanti altri programmi dell'Unione Europea e la mia proposta sarebbe proprio quella se il fondo Juncker possiamo prolungarlo e ampliarlo allora possiamo fare della digitalizzazione proprio una priorità ma quando si tratta di trasformare dati in tempo reale allora che cosa occorre? occorre la nuova tecnologia il 5G lo standard 5G e quindi in tutti i paesi bisogna avere lo stesso approccio perché se no ci sarebbe proprio un mosaico che però non sta insieme invece bisogna andare avanti tutti quanti insieme per creare un'azione omogenea fibre di vetro e naturalmente occorre una politica delle frequenze armonizzate quando parliamo del mercato unico del digitale è una cosa fondamentale è anche la base giuridica giuridica uniforme perché bisogna trattare dei dati di dimensioni ingenti quindi bisogna però stare attenti che la base giuridica che dà dei dettagli ancora non risolti devono essere interpretati a livello nazionale rispettivamente quindi ci sarà proprio questo sforzo di stretta cooperazione tra gli specialisti dei vari paesi e propongo anche di poter portare avanti il discorso con la Commissione Europea per quanto riguarda il diritto di concorrenza vedere se il diritto di concorrenza ancora funziona in questa nuova era in cui stiamo entrando adesso perché noi se ci confrontiamo con i grandi attori sulla scena mondiale vediamo che è importante appunto questa grande misura quindi dobbiamo essere anche noi forti naturalmente questi grandi numeri di dati la tutela dei dati hanno qualcosa da che fare naturalmente quindi bisogna tutelare i dati personali la privacy è importante l'infrastruttura e le nostre capacità digitali devono essere tutelate protette da potenziali ciberattacchi naturalmente c'è questa nuova strategia per la sicurezza nell'ambito cibernetico ma bisogna proprio anche qui collaborare strettamente tra i vari paesi perché lo spazio cibernetico è uno spazio enorme mondiale e bisogna proprio organizzarsi ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda la trasformazione digitale persone che lavorano nell'ambito industriale si stanno preoccupando forse quindi per cercare di evitare degli sviluppi troppo perturbativi e riuscire a portare avanti tutto questo processo verso un futuro senza troppi scossoni per le persone che lavorano nel campo grandi tematiche come la formazione continua e anche il mondo del lavoro dovrà essere un po' reinventato il nostro ministro del lavoro ha pubblicato un libro bianco per quanto riguarda il piano 4.0 ma non siamo ancora arrivati al traguardo quindi non è caso stiamo ancora discutendo siamo elaborando tutte queste cose per riuscire ad affrontare tutte queste nuove sfide e dato che vi è questa dinamica a livello di innovazioni i temi di formazione e ricerca sono importanti naturalmente formazione che cosa vuol dire? istruzione, formazione dei giovani, dei bambini poi dei giovani che naturalmente crescono già da subito in questo nuovo mondo a coloro degli insegnanti qualificati che possano accompagnare questi nuovi allievi questi studenti del futuro e dobbiamo investire in maniera sostenibile ed affidabile nel nostro paesaggio di ricerca sia nelle università che extrauniversitarie noi per la Germania possiamo dire dati del 2015 dicono che oltre 62 miliardi di euro avevano investito quindi una cifra senza precedenti un volume senza precedenti insieme poi agli aiuti satali che aumenteranno di conseguenza abbiamo quasi raggiunto il 3% del PIL per ricerca e sviluppo e questo è qualcosa che ha fatto sì che la Germania è tornata ad essere un paese molto interessante dal punto di vista economico come posto di lavoro quindi molti ricercatori dai Stati Uniti America stanno tornando anche in Europa e in Germania io parlavo anche della formazione a livello scolastico non si tratta di una questione di competenza federale in Germania però noi dobbiamo ovviamente sul piano federale appoggiare i lender in questi compiti per poter far sì che appunto gli studenti possano imparare a prendere tutti questi nuovi tool e si tratta di una cosa di una nuova materia come si imparava una volta soltanto a leggere e scrivere adesso bisognerà imparare anche a programmare la programmazione e diventare una materia importante nelle scuole signore e signori ciò che in Europa dobbiamo realizzare qui l'Italia e la Germania possono imparare l'uno dall'altro come si può istituire dei nuovi start up nell'industria Berlino in particolare è una città molto interessante sotto questo profilo dobbiamo scambiarci le nostre esperienze ci sono nuovi canali di finanziamento che possono aiutare c'è una buona cooperazione con la banca CDP la banca tedesca KFV e il fondo europeo per gli investimenti strategici ecco questa cooperazione dovrà essere coltivata ulteriormente sviluppata e dobbiamo apprendere gli uni dagli altri delle esperienze rispettive e unendo i nostri sforzi le nostre esperienze aiutati anche dagli ambienti industriali possiamo portare avanti l'Europa sappiamo che non c'è tempo da perdere perché in molti campi ormai l'Europa non è più pioniere nella trasformazione digitale dobbiamo riconoscere questo consumo eccetera l'Asia e gli Stati Uniti d'America sono ormai andati avanti più veloci di noi quindi adesso bisogna vedere se la trasformazione digitale che deve avere luogo all'interno dell'industria non è una delle tante questioni da affrontare ma è proprio una questione fondamentale per il benessere di domani per l'occupazione di domani perché se noi con le nostre potenzialità industriali sia in Italia che in Germania diventiamo soltanto delle grandi grandi banchi di lavoro prolungati dell'ambito dell'internet allora non andrà bene noi dobbiamo essere forti noi ma essere forti da pionieri noi stessi con le piccole e medie imprese dobbiamo non soltanto parlare ma proprio aiutarli e il ministro dell'economia Sigmacabria l'ha fatto in molti ambiti con tutte le associazioni eccetera le grandi aziende le grandi imprese conoscono i propri compiti le piccole e medie imprese hanno un po' di difficoltà forse a seguire con questa velocità le nuove evoluzioni le nuove strutture quindi è importante accompagnarle accompagnarle a livello statale la globalizzazione la trasformazione digitale sono due cose che sono strettamente interconnesse pertanto i nostri vertici sia nel G7 che nel G20 ritroverete questi temi e sono sicura che la digitalizzazione e la cooperazione economica potrà essere un progetto in cui l'Europa potrà dimostrare i propri punti di forza in cui riesce a lavorare insieme andare avanti insieme tra tutti i stati membri e naturalmente tutto questo è importante a livello del Consiglio europeo ma di tutti gli altri consigli tra tutti i dicasteri è importante proprio concentrarsi sui punti fondamentali alcune decisioni vanno adottate in maniera più celere e implementate in maniera più veloce perché la trasformazione digitale è qualcosa che richiede velocità e il mondo non sta aspettando noi quindi dobbiamo sbrigarci dobbiamo essere veloci non perdere tempo pertanto sono davvero lieta che questa conferenza di oggi possa far sì che l'Italia e la Germania possano dimostrare i propri punti di forza ringrazio tutti coloro che hanno preparato e organizzato questa conferenza ringrazio